Buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto a Confindustria Nautica, in particolare a Polo, il Presidente Sabericelli e il Sindaco Marco Busci per avermi invitato qui con voi oggi. Per me è un grande onore, questo è sicuramente un punto di riferimento internazionale per il settore della nautica e il fatto che sia l'unico evento a tenersi questa stagione un po' particolare deve essere fonte di orgoglio per tutti noi. Il Simes, come sapete, è parte del gruppo Casa Depositi e Prestiti e insieme con Sace è a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione delle nostre aziende. E in questo settore, soprattutto, la vendita lì rappresenta un valore di enorme significato e di enorme impatto sul mercato globale. La nostra finiera nautica cresceva nel 2019 di circa il 10% e con un valore complessivo di, approssimativamente, 5 miliardi. Siamo liberi incontrastati nel mondo e nel settore degli superiotti e questo deve renderci, ovviamente, ulteriormente orgogliosi. Sicuramente l'anno 2020 è un anno molto particolare, ma grazie anche alla dinamica di questa industria vediamo che c'è, grazie a Dio, un grado di resilienza superiore rispetto a quello di altri comparti produttivi. Per cui è il primo elemento di speranza e di supporto che voglio sottimediare questa mattina. Noi partecipiamo in maniera diretta alla internazionalizzazione dei settori produttivi e per noi quello della nautica è un settore particolarmente rilevante. Participiamo sostanzialmente in due modi. Il primo è quello di gestire, per fondo del MAECI, il fondo 394, per il fondo pubblico a supporto dell'internazionalizzazione dell'export. Il patto per l'export è un investimento enorme nel nostro sistema. Quest'anno sono stati stanziati circa 2 miliardi, di cui 1.260 milioni sono stati affidati a noi. Abbiamo sicuramente cercato di supportare le aziende nel migliore dei modi e la filiera della nautica è uno dei comparti che ha beneficiato in maniera importante di questo strumento. Complessivamente negli ultimi anni abbiamo investito e supportato come Simest questa filiera sia con i fondi agevolati e i fondi pubblici, sia con il nostro capitale con un controvalore complessivo di circa 14 miliardi, dedicato soprattutto al supporto internazionale e alla grande canzionistica, per cui è per noi un settore di estrema rilevanza. L'incontro di oggi è un'enorme occasione per quanto mi riguarda di dare un segnale di speranza. Siamo in un contesto particolarmente complesso, ma che offre, a mio avviso, una grande opportunità per tutti noi. E' una discontinuità improvvisa, una discontinuità forte, ma una discontinuità che vuole probabilmente il ripensamento di tutte le filiere produttive. Lo shock che abbiamo davanti agli occhi ha mostrato la fragilità delle filiere globali ed ha sicuramente accelerato il percorso di declobalizzazione di queste filiere verso un processo di regionalizzazione. E questo rappresenta per tutti i produttori, per tutte le aziende in particolar modo, l'azienda della filiera della nautica, una possibilità di ripensare le proprie strategie di internazionalizzazione, di andare a conquistare quote di mercato che verranno inevitabilmente messe a disposizione grazie appunto a questo processo di regionalizzazione e di ricostruzione delle filiere in un altro modo. E rappresenta quindi una grandissima opportunità per chiunque abbia valore da vendere e sia in grado di produrre ricchezza e valore attraverso il proprio operato. La filiera della nautica ha una tradizione, una storia, una cultura impareggiabile al mondo, nel proprio settore. E questo rappresenta una capacità straordinaria, ineguagliata ed ineguagliabile per portare valore sul mercato a livello globale. Volendo così fare una metafora veloce sul comparto che stiamo rappresentando, stiamo affrontando una grande burrasca, una burrasca improvvisa, fortissima, che affronta però anche tutti gli altri sistemi. Le nostre navi e qualche parte sono quelle sicuramente meglio attrezzate per affrontare questa burrasca, e quindi la mia certezza va nel fatto che ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare e ce la faremo. Grazie.